Un mese e mezzo di beneficenza, un mese e mezzo che molte famiglie non dimenticheranno mai. Le spese solidali che hanno unito molti paesi e coinvolto molte società sportive, dalla SD Mercogliano alla Dinamo Monteverde, ha portato tra la gente una ventata di positività in un momento ancora buio. Fra i protagonisti, anche Emilio Grieco, chef dei Santi di Mercogliano. 5.000 pasti, 350 spese, coinvolti 30 volontari, numeri da scudetto della beneficenza. La nostra iniziativa volge al termine dopo 45 giorni. Se devo tirare un bilancio è positivissimo. Abbiamo superato i 5.000 pasti in 45 giorni, grazie all'aiuto dei nostri dipendenti che da volontari sono venuti ad aiutarci. È un'iniziativa che ci ha dato tanto, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Quindi è un qualcosa che si ferma al momento perché dobbiamo pensare a far ripartire le nostre attività. Però è un qualcosa che già ci siamo prefissati in un futuro, si può ripetere tranquillamente per le persone che ne richiedono. Quindi siamo felicissimi di questa esperienza. Sport e volontariato è un connubio, sempre vincente. Mercogliano da questo punto di vista si conferma leader. Lo sport ci è stato molto vicino, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista materiale. Perché la polisportiva di Mercogliano, l'ASD, ha provveduto più di una volta con i propri associati. e con il presidente Antonio Sarti, ha provveduto più di una volta a fare una spesa solidale per la nostra mensa. Quindi lo sport, come sempre, a Mercogliano è stato vicino alla cittadinanza. Grazie.